Harry e Meghan hanno manifestato loro pieno sostegno alla principessa Kate dopo aver appreso della sua diagnosi di cancro. Attraverso un comunicato del loro portavoce hanno espresso i loro migliori auguri di salute e guarigione per Kate e la sua famiglia, auspicando che possano affrontare questo momento in privato e serenità. È stato rivelato che il duque e la duchessa del Sussex non erano stati informati in precedenza sulle condizioni di salute della principessa del Galles. Coincidentemente Harry e Meghan erano stati avvisati pubblicamente poche ore prima dell'annuncio della diagnosi di Kate. Erano presenti a un evento a San Francisco presso il Sophie Stadium per una mostra sulla storia dell'arte afroamericana. Poco dopo è stato diffuso il video messaggio di Kate Middleton che ha colto tutti di sorpresa.